Buongiorno, bentornati nella nostra galassia. Mi scuso come sempre per la mia bronchite e anche in realtà per la qualità video devo sistemarla, lo so, sto registrando non so il perché così male, va bene. Comunque, primo video, guida di Anthem, video corto giuro nulla di particolare ma so che molti di voi non hanno lo sbattimento di fare le cose e andranno a cercare anche questo. Quindi, prima guida sulle tombe dei legionari. A un certo punto vi ritroverete pure voi a dover cercare le tombe dei legionari, più prima che poi. E per poter entrare, trovarle non è difficile, in realtà nella modalità libera vi verranno segnalate sulla mappa e sulla bussola, dovrete comunque compiere delle sfide. Sfide che vi vengono dette all'ingresso delle tombe e, se non superate, beh, vi attaccate al tram e tirate come ho fatto io e non potete entrare. Quindi, qual è il trucco? Il trucco è prendere voi e il vostro strale, mettervi con pazienza ed edizione all'interno di un'esplorazione e gironzolare facendo eventi globali. Dal mio calcolo esatto dovrebbero volercene 15. Fatto tutto ciò e ammazzando, sgraffignando, aiutando qualsiasi cosa nella mappa, potrete entrare nelle varie tombe disseminate qua e là. Comunque, per i più pignoli, ecco le sfide delle quattro tombe. Grazie per la visione! Con questo è tutto, spero di esservi stato utile. GG a tutti quanti!